Easy, Easy, EasyZip Come estrarre file RAR multiparte online? Vai su EasyZip.com, quindi fai clic su Uncompress, Altro, quindi vai a estrarre file RAR multiparte online. Fai clic su Seleziona file RAR da estrarre per aprire il selettore file o trascina e rilascia i file RAR direttamente su EasyZip. Assicurati di selezionare tutte le parti, altrimenti l'estrazione fallirà. Avvierà l'estrazione del file ed elencherà il contenuto del file RAR una volta completato. Fai clic sul pulsante blu anteprima per aprire direttamente nel browser. Fai clic sul pulsante verde salva sui singoli file per salvarli nella cartella di destinazione selezionata. È così facile. Spero che aiuti. Clicca sul logo e iscriviti. Significherebbe molto per noi.